ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi anche oggi un nuovo prodotto da presentarvi guardate cosa ho trovato ragazzi questo cos'è questo è un rele e ad alta tensione 230 volt ac 102 40 50 60 hertz con varia corrente ok come portata esiste il modello più piccolo il medio il grosso esiste anche monofase o trifase ragazzi il bello di questo contattore è che è smart perciò puoi programmarlo pilotarlo a distanza con l'app tuia smart puoi andare a creare le tue scene puoi andare a leggere giornalmente i consumi che ci sono sotto quel contattore per esempio andiamo a mettere questo contattore nella presa asciugo del frigorifero e io giornalmente saprò quanto quel frigorifero mi ha consumato o in alternativa su un faro led ad alta potenza o su una serie di fari led ad alta potenza potrò id a remoto ok tramite il wifi funziona col 2,4 gigahertz non compatibile con 5 gigahertz ragazzi perciò se dovete fare l'installazione dell'app utilizzate sempre comunque un modem router 2.4 gigahertz questo è il modello più piccolo 32 ampere 50 ampere poi c'è anche il modello più grande 63 ampere 80 ampere sempre comunque monofase ragazzi mi raccomando non ci confondiamo se avete un impianto trifase e volete andare a controllare questo impianto da remoto a potete utilizzare questo modello trifase eccolo qui 100 450 60 hertz 63 80 ampere sempre compatibile con tuia smart e poi tutto il resto di applicazioni che vedete qui alexa google ifttt smarting xiaudu ding dong comunque sono tanti app che potete appunto configurare programmare il vostro contattore esatto perché ragazzi questo è un relai un relai a stato solito che accende spegne la linea che misura anche grazie all'elentronica interna che ti darà un grafico guarda questo è tutta la prassi per andarlo a interfacciare con la tua linea ragazzi io sto valutando appena possibile di cambiare nel mio impianto e mettere questi però ragazzi attenzione questi non vanno sostituiti ai salvavita magnetotermici differenziali che tu hai in casa assolutamente no questi sono solo ed esclusivamente degli interruttori di potenza a 240 volt pilotabili via smart perciò ovunque tu ti trovi potrai andare a programmare pilotare questi interruttori ragazzi sono davvero fatti discretamente dai feedback parlano di prodotti fatti bene funzionanti l'applicazione è carina l'applicazione si utilizza in maniera molto molto semplice per il prezzo ragazzi costano il giusto non li regalano ma neanche costano uno sproposito il giusto per chi volesse un impianto smart sotto controllo eccetera eccetera questi fanno al caso vostro questo occupa un din questo occupa due din e poi ovviamente c'è il trifase 4 din perché fase 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 poi abbiamo il neutro ragazzi eccoli qui qua messe sulla barra metallica del nostro della nostra cassettina e si presentano così belli belli davvero ragazzi per questo video lampo è tutto se il prodotto ti piace vuoi vedere qualche informazione in più ti lascio sotto in descrizione il codice riservato link riservato per andare a usulfruire dello sconticino per tutti i miei fans ciao belli al prossimo video ciao